Intanto è importantissimo che abbiamo approvato questo bilancio entro l'anno 2019. Questo vuol dire che già dall'inizio gennaio, cioè da questi giorni, noi siamo operativi e possiamo subito intraprendere le scelte più importanti. Una voce fondamentale in questo caso è quella dedicata alle scuole. Noi nel 2019 abbiamo fatto la verifica sismica in tutte le scuole di Coglialmetauro, che sono tutte sicure, però con degli standard ovviamente diversi. Molte sono scuole vecchie e da quest'anno mettiamo 400 mila euro per la progettazione esecutiva nei plessi che hanno uno standard di minor sicurezza. E conseguentemente poi su queste scuole vogliamo intervenire proprio con delle opere, come stiamo facendo adesso alla Dezzi di Saltara e come abbiamo appena fatto la grada a palto per la Ciavarini di Montemaggiore. Quindi proseguire anche con altre scuole già nei prossimi mesi. Una scelta importante che noi abbiamo fatto quest'anno per la prima volta a Coglialmetauro è uniformare la tariffazione. Prendiamo l'IMU, era suddivisa per le tre ex municipalità. Saltara aveva un'IMU molto alta, 16, un'IMU mediana l'aveva Montemaggiore, un pochino più bassa l'aveva Serrungarina. Noi entro il quarto anno dovevamo uniformarla, quindi lo abbiamo fatto con un anno di anticipo, tenendo un'IMU medio-bassa su tutto il territorio di Coglialmetauro al 9,4. Questo vuol dire un bel beneficio per la maggior parte della popolazione, particolarmente per l'ex municipalità di Saltara. Ai noi invece prevede un piccolo aumento per quella di Serrungarina, mentre rimane invariata per l'ex municipalità di Montemaggiore. Questo perché uniformandola si fa una media, chi l'aveva molto alta viene abbassata, chi l'aveva molto bassa un pochino viene innalzata. Un'attenzione in particolare l'abbiamo avuto per il sociale, abbiamo messo più fondi a favore delle famiglie in difficoltà e anche dei servizi alla disabilità. Un'altra voce importante, ci tengo, sono 850 mila euro che noi mettiamo per le piste ciclabili e i marciapiedi, un po' su tutto il territorio, dando priorità a un primo tratto che da Borgaccio collegherà Tavernelle. Ultima, scelta questa molto lungimirante e fondamentale, è la creazione di una sola sede comunale municipale di Coglialmetauro, che è l'attuale delegazione dei calcinelli che dovrà essere rivisitata, ristrutturata, messa in sicurezza ed adeguata e per questo abbiamo messo 1.700.000 euro proprio su questa annualità e partiamo ora con la progettazione.